Il cantiere per la realizzazione della nuova rete fognante in via Lidio è attivo da qualche settimana e lo rimarrà fino al prossimo 25 febbraio, data in cui è prevista da contratto la conclusione di questi lavori che consentiranno di collegare i reflui della zona al depuratore comunale. I lavori del Parfe rappresentano una novità importante, ma nulla di nuovo si registra invece per quelle problematiche che si trascinano da anni e sulle quali oggi torna ad accendere ai riflettori la rete dei procuratori dei cittadini di Cittadinanza Attiva di Sciacca che ha chiesto all'amministrazione e ai competenti uffici comunali una relazione sulle iniziative attuate o che saranno attuate prossimamente. Già la scorsa estate i rappresentanti del comitato di quartiere Lido Ferdinandea di Cittadinanza Attiva avevano avuto un incontro con gli assessori Fisco, Mannino, Patti e Sinagra nel corso del quale avevano rappresentato le problematiche sollecitando un crono programma di interventi infrastrutturali da attuare. Oggi la rete dei procuratori dei cittadini evidenzia che non c'è stato alcun seguito da parte dell'amministrazione nonostante i solleciti fatti e l'estrema gravità delle questioni sollevate a cominciare dalle ripetute rotture dei vetussi collettori del sovrastante quartiere della Perriera che riversano liquami sulla sottostante via Lido. Liquami di acque bianche e nere che si uniscono alle acque non incanalate per cui ad ogni evento consistente di pioggia scorrono furiosamente lungo la scarpata diventando massa fangosa che invade la sottostante sede stradale e le case della stessa via Lido. C'è anche la questione della viabilità legata ai danni causati dal violento nubifragio del novembre 2021 che provocò il crollo di due muri di sostegno e lo sfollamento di numerose famiglie. Al momento la via Lida è interdetta al transito per realizzare la rete fognante ma il problema del tratto transennato in prossimità dell'edificio danneggiato dall'alluvione del 2021 si ripresenterà dopo il 25 febbraio assieme alle condizioni critiche di tutta l'arteria e a quella della sottostante via Isola Ferdinandea.